Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consigliato appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla mobilitazione affinché il Tribunale di Gela non perda un magistrato. Intervengono il Presidente del Presidio Paolo Fiore e il Sindaco di Gela Domenico Messinese. Sentiamo. Gela a difesa del Tribunale, a sostegno dell'unico giudice che segue procedimenti penali su inquinamento ambientale e malformazioni che sarà applicato a Catania. Il Presidente del Tribunale di Gela Paolo Fiore e quello della Corte d'Appello hanno espresso la loro contrarietà al trasferimento di Manuela Matta. La situazione che presto verrà a crearsi è critica, scrive il Presidente Fiore al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Rischiamo di vedere vanificati anni di impegno inquirente nel settore ambientale e in quello del lavoro. Fiore parla a nome anche del Procuratore Capo Lucia Lotti, esprimendo incredulità di tutti i magistrati per l'accaduto. Sull'argomento è intervenuto anche il Sindaco Domenico Messinese. Gela non assisterà impassibile all'ennesimo tentativo di scippare la città di un diritto di Stato. Il provvedimento è stato adottato lo scorso 22 dicembre dal Consiglio Superiore della Magistratura. Colpire la sede del distretto giudiziario maggiormente compromessa dalla carenza d'organico, ha continuato il primo cittadino, apparirebbe come uno dei peggiori sabotaggi all'azione inquirente della nostra procura in tema di ambiente e lavoro, in una terra che grida giustizia. Uno stop a centinaia di importanti procedimenti penali ci allontana dallo Stato di diritto e ci rende orfani delle dovute tutele giudiziarie. Da oggi annunciamo una serie di iniziative di mobilitazione, ha concluso il Sindaco di Gela, per ottenere dal CSM un'istanza di revoca dell'applicazione extra distrettuale, coinvolgendo anche la sensibilità di tutta la deputazione del territorio. I parlamentari abbiano la forza di sostenere le rivendicazioni dell'agente di Gela, portando le loro istanze a Roma, per rispetto di chi è stato offeso dall'ingiustizia e di chi è piegato al bisogno. Siamo alla cronaca, uno scontro lungo via Licata all'altezza di Punta Vigne. Ieri il tratto di strada è interrotto dopo l'arrivo degli agenti della polizia. Ad avere la peggio sono stati i conducenti di una BMW Serie 1 e un Alfa Romeo 147. Hanno impattato a poca distanza dall'incrocio che mette in direzione di Macchitella. Il tratto stradale è stato interrotto dopo l'intervento degli agenti di polizia municipale e di quelli del commissariato. Verifiche sono in corso anche rispetto al conducente di una Ford Fusion. Non si esclude che abbia potuto avere un ruolo nell'intera dinamica. Perdere il controllo della propria vettura sarebbe stato per causa in fase ancora di accertamento il giovane conducente della BMW che così è andata ad impattare pare contro l'Alfa Romeo. Cambiamo argomento. Vertenza Gela, incontri al Mise e azione amministrativa. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco Simone Siciliano. Si prepara a Gela la mobilitazione generale dell'area industriale di Contrada, Piana del Signore, prevista per il 20 gennaio prossimo. Affrontiamo l'argomento degli incontri al Mise e della drammatica vicenda Vertenza Gela con il vice sindaco Simone Siciliano. La programmazione di chiusura di anno prevedeva che a gennaio ci fossero diversi incontri tra il Ministero, Eni e poi di volta in volta le regioni, i sindacati e le amministrazioni comunali in cui Eni inzeda le proprie attività, proprio per chiarire da un lato la posizione di Eni di voler continuare a investire sul territorio nazionale e nel nostro caso sul territorio gelese, che è stato comunque più volte confermato. Dall'altro invece la volontà dei Ministeri di far sì che Eni possa continuare a investire sul territorio. Per quello che ci riguarda noi abbiamo un incontro giorno 20 mattina a Roma al Ministero. È auspicabile che ci sarà anche la Vicari e il Ministro Guidi per discutere delle strategie nazionali sul territorio di Gela in merito all'accordo di programma. Stiamo provando a contestualizzare giorno più, giorno meno, anche l'incontro di verifica sul protocollo di intesa che si incastra di altri incontri che stiamo effettuando con Eni proprio per le attività diversificate che la stessa Eni vorrà implementare all'interno dell'area della refineria in alternativa a quello che è stata l'economia di base. Assessore, nonostante il terremoto che è accaduto all'interno del Movimento 5 Stelle la vostra azione amministrativa continua su diversi fronti? Sì, un'azione amministrativa non si è mai fermata. La logica di questa amministrazione è quella di concertare con tutto il Consiglio Comunale fin dal primo giorno le azioni programmatiche che competono anche al Consiglio Comunale singoli consiglieri per lo sviluppo del territorio a 360 gradi. Non è cambiato l'assenso o meno a favore di questa amministrazione di 4, 3 consiglieri comunali perché di fatti il cambiamento che questa amministrazione vuole rappresentare è legato semplicemente al fatto che nessuna logica politica di tipo gerarchico può condizionare le scelte dell'amministrazione per il bene della città. Ho ripetuto più volte che noi non ne vogliamo fare una battaglia ideologica o di colore politico perché gli unici colori che vogliamo difendere sono quelli del territorio gelese. Si continua quindi a lavorare su diversi fronti, tra le sue competenze specifiche c'è proprio quella dell'ambiente. Sì, proprio in materia di tutela ambientale stiamo cercando di migliorare il parco tecnologico delle centraline di monitoraggio sia in termini di quantità che di qualità imbiantistica. I dati di queste centraline ci permetteranno di capire anche la ricaduta delle polveri sottili dovute alla viabilità classica presente in città e proprio in merito a questo argomento ci stiamo cercando di congettare con l'assessore Catania tutta una serie di azioni per mitigare le difficoltà che possono insorgere dalle stringenti misure di chiusura al traffico soprattutto nei mezzi pesanti in via Venezia con quelle che possono essere le tutele sulla salute ma soprattutto la tutela di chi in quelle aree lavora e sperabilmente non veda in queste ordinanze un intralcio alle attività produttive. Confronto tra l'amministrazione comunale e la categoria degli autotrasportatori traffico urbano e ambiente al centro dell'incontro. Sentiamo Ottimizzare le vie di comunicazione per gli autotrasportatori e ridurre il traffico pesante e le polveri sottili in via Venezia per aumentarne la sicurezza per gli utenti sono gli obiettivi dell'accordo raggiunto dall'amministrazione comunale di Gela con la categoria degli autotrasportatori. È stata fatta un'ordinanza dal sindaco del 15 dicembre 2015 per la sicurezza e i livelli di inquinamento sulla via Venezia perché sono a livelli altissimi. Abbiamo ricevuto le dovute comunicazioni da parte dell'ARPA e degli enti competenti che ci invitavano a risolvere la situazione. Allora l'amministrazione ha fatto un'ordinanza che dalle 7.30 alle 21.30 c'è un divieto di transito per tutti gli autotrasportatori che hanno dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate. A questa per consentire l'esercizio delle proprie attività, visto che la via Venezia è piena di attività commerciali, si sono imposte due finestre di tolleranza che vanno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 che consentirà agli autorizzati di poter comunque lavorare. Il fine di questa ordinanza è quella di tutelare soprattutto il passaggio delle scuole per i genitori e i figli durante il periodo di ingresso scolastico. In alternativa percorreranno la famosa strada dei due castelli e quindi bypasseranno la città di Gela se non hanno la necessità di consegnare delle merci sulla città di Gela. È prevista però un'ulteriore tolleranza a seguito di una riunione fatta con i trasportatori. Ci hanno segnalato che la parte che va dal Stato Statale 115 fino a Via Niscemi al Bivio con lo Stadio Vincenzo Presti e costituisce un'arteria fondamentale per la sosta anche tecnica di urgenza o comunque per caricare e scaricare materiale che proviene dalla stazione nell'eventualità insomma che ci siano dei treni in transito merci. E quindi abbiamo già predisposto una nota interpretativa al comando di Polizia Municipale per essere utili sulla gestione di queste esigenze dei trasportatori. Sono aperte le iscrizioni al primo corso Sabex Rec dell'anno 2016 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato entro il mese di gennaio e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela. In via Cicero nel numero 104 tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il 22 gennaio prossimo presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0933 93 97 18. Non nuove terre ma nuovi occhi e questo è il tema molto profondo dai contenuti davvero importanti del terzo meeting del Mediterraneo. Questo 2016 si aprirà dunque con questi argomenti così importanti. Sì, sono argomenti che noi crediamo essere molto importanti per l'intera cittadinanza anche perché noi vogliamo mantenerci in linea con i diversi momenti che abbiamo fatto del meeting dello scorso anno, siamo infatti arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo parlato delle frontiere dell'industria, dell'impresa per il momento storico particolare. Quest'anno vogliamo parlare delle nuove frontiere in tutti i campi perché viviamo un momento davvero particolare e quindi parleremo delle nuove frontiere dell'economia, dell'industria ma anche della ricerca e dell'immigrazione attraverso l'intervento in tutto il corso della giornata di relatori importanti quali Vincenzo Berretta che è un manager di Luxottica, poi avremo il professore Giacquinta dell'Università di Catania che è stato candidato al premio Nobel in segna fisica e poi avremo la D'Agostino che è la direttrice dell'ITASTRA, la scuola d'italiano per stranieri dell'Università di Palermo e quindi avremo questi momenti durante il corso della giornata, due momenti principali la mattina e il pomeriggio che si terranno al cineteatro antidoto e poi diversi mini workshop, chiamiamoli così, laboratori in cui gli altri relatori parleranno di queste frontiere in un percorso che noi immaginiamo comprendere il Palatenda, il Palacademy, sempre a Macchitella e la pista ciclabile che fungerà da collegamento tra questi spazi offrendo anche la possibilità di avere una minimappa tematica Che cosa è per voi il meeting e soprattutto qual è la vostra mission e a chi è rivolto? Il meeting vuole essere un momento di incontro tra persone, nella parola stessa inglese quindi vogliamo far sì che ogni anno si prenda un tema e lo si sviscere nelle sue varie parti per chiarire una discussione, un fermento culturale che possa far bene al territorio cittadino in primo luogo ma perché no anche a un territorio regionale, allargandolo fino a farlo diventare veramente un meeting del Mediterraneo infatti questa parola è un auspicio che vogliamo, vogliamo far sì che Gela possa diventare un punto di convergenza di culture, di opinioni e un punto di convergenza anche di popoli È rivolto a tutti, il nostro target, comunque i destinatari dell'invito al meeting vanno dai giovanissimi fino agli anziani Ricordiamo invece il luogo, il giorno e gli orari Il meeting del Mediterraneo sarà fatto quest'anno il 31 gennaio, l'ultima domenica di gennaio al teatro antidoto a Macchitella Per chi volesse si informi nella pagina Facebook del meeting, il meeting del Mediterraneo in cui ci sarà magari la possibilità di poter pranzare insieme con un piccolo ristoro potesse diventare anche un momento di conoscenze, di incontro anche al di fuori di quelli che sono i convegni e le relazioni principali Sarà allestita una mostra fotografica di paramenti sacri nel decimo anniversario della dipartita di Don Franco Cavallo presso i granai di Palazzo Ducale dal 16 al 24 gennaio prossimo L'evento è a cura di Franco Pardo in collaborazione con Crociattardi Esporranno gli artisti Gina Pardo e Pino Polara La mostra patrocinata dal Comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 Open Day all'Enrico Solito per mostrare le attività e l'offerta formativa ai genitori che intendono scrivere i propri figli in questa scuola Una scuola davvero all'avanguardia? Sì, una scuola veramente all'avanguardia I genitori sono sempre più esigenti, vogliono sapere ed è giusto che ogni scuola possa fare vedere la propria offerta formativa La nostra scuola ha tanti laboratori, tante innovazioni che in questi ultimi anni sono passati Passare per le nostre aule o per i nostri laboratori, perché le nostre aule sono dei veri laboratori Vedere i bambini che lavorano con i tablet, con le limb Oppure vedere i nostri bambini che durante l'orario curriculare fanno musica suonando le chitarre, i flauti O andare in balestra dove c'è animazione è una cosa molto bella e penso che il genitore debba essere convinto sulle scelte che fa perché sono scelte importanti La scuola primaria o addirittura la scuola di imbanzia Credo che si possa dire che sia la scuola non solo di base ma sono le fondamenta che si danno ai bambini Da lì parte quello che sarà il loro curriculum scolastico, quello che loro diventeranno E io penso che la nostra scuola sia con il corpo docente che ha, sia per le attività che fa, sia per la presenza continua dei genitori nelle manifestazioni La loro partecipazione sia proprio una bella scuola Noi domani continueremo l'open day a cantina sociale Avremo la possibilità di fare conoscere anche lì la nostra offerta formativa E' previsto per domani al Enrico Solito dalle 9.30 l'open day, la scuola lo ricordiamo, diretta da Clizia Nobile Mentre il 20 gennaio prossimo lo stesso open day sarà, è previsto per il plesso cantina sociale Sono aperte le iscrizioni per infanzia e primaria Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno E questo è il tema dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano Che prenderanno il via sabato prossimo e si concluderanno mercoledì 20 gennaio Presso la parrocchia di San Sebastiano Martire guidata da Don Filippo Salerno Ogni giorno alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica in onore del Santo e la riflessione omiletica Salviamo il salvabile è la commedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'associazione Demetra Porteranno in scena sabato 16 gennaio prossimo alle ore 21 al Teatro Eschilo di Gela La regia è affidata a Maurizio Nicastro Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21 Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 Oppure chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 345 5880 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 Prossimo spettacolo stasera con Sergio Vespertino Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 Organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 Concerto del trio Antonella Callea al flauto Lucia di Mora al violino Salvatore Gaglio al pianoforte Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Procivis di Gela diretta da Luca Cattuti I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità Sono componenti attivi di una organizzazione integrati in un sistema organizzato quale quello del soccorso sanitario e della protezione civile Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile recarsi presso gli uffici di via Ossidiana numero 23 ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30 oppure chiamare il numero 0933 93 83 12 o ancora inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica p.a.procivis.it Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio Il corso di formazione pratico e teorico proseguirà poi per 18 mesi Grandi competenze e spirito di squadra per la Juniors Macchitella che ha sbaragliato tutte le avversarie e si attesta al primo posto nella classifica con la speranza di saltare di categoria Sì, diciamo che i ragazzi ci sono facendo bene stiamo facendo un grandissimo lavoro Si è formato un bellissimo gruppo Però, diciamo, non ne abbiamo fatto ancora niente perché il campionato l'altro ieri è stata la prima di ritorno quindi ancora il campionato è molto lungo è molto agguerrito perché ci sono le due o tre squadre che sono lì vicino a noi e quindi diciamo che è stato importante iniziare bene il girone di ritorno e ora continuare sempre con lo stesso spirito perché, al di là dei risultati, l'obiettivo del Macchitella è stato sempre quello di valorizzare molto i giovani è quello che sta accadendo perché ricordo che molti della squadra Juniors hanno già esordito in prima squadra in promozione come primo anno quindi diciamo che, oltre ai risultati sul campo, abbiamo questo orgoglio di valorizzare sempre di più i giovani che è una cosa che ha sempre fatto il Macchitella Consolidare il primo posto in classifica però è importante anche da un punto di vista proprio dell'unione della squadra Sì, sì, ma infatti questo io sono contento anche di questo anche perché i ragazzi vedo che si allenano con lo spirito giusto e anche fuori dal campo si frequentano e quindi la cosa importante è pure questo dove il gruppo è molto compatto Quali sono i motivi per cui un giovane si avvicina al calcio e decide di far parte di una squadra così frizzante? Sì, di più ho la passione che viene da piccoli appunto del calcio che trasmette anche a un genitore e poi comunque anche il gruppo che ti fa sentire bene e il Macchitella lo ha sempre fatto almeno per me lo ha sempre fatto e quindi io sono orgoglioso di giocare per il Macchitella Fate molto spogliatoio Sì, sì, moltissimo anche sia dentro che fuori il campo ed è la forza che appunto il Macchitella non abbiamo grandissimi giocatori però appunto il gruppo fa sì che vinciamo le partite e magari facciamo delle belle esperienze anche fuori del gelo Massima concentrazione sul campo e massimo divertimento fuori dal campo Sì, sì, assolutamente ed è questa appunto la forza che ci ha fatti arrivare fino a lì sia con la New York che con la prima squadra Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare lo hanno comunicato i padri agostiniani Infine c'è l'informazione cinematografica e uno per tutti i film in programmazione al Cineteat l'antidoto di Macchitella a Gela sono questi gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30, 19.30 e 21.30 Con la informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it e vi ricordiamo che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani